E' parte 2, missione! Ciao Alberto! Cosa va? Posso guardarti il mio flyer? E' il lupo che è te o non? Puoi farlo vedere alla telecamera? Si! Si sa che anche il gatto dell'AI sostiene anche un piccolo caroto E questo è un po' difficile pensare Dai siamo un po' disnovamenti Ciao! Anche l'oretto dell'AI Non si è capito bene cosa ne so comunque Non si è capito bene